Giappone e Corea del Nord verso la soluzione di una questione risalente alla guerra fredda. In una riunione bilaterale Pyongyang si è impegnata ad aprire il dossier sui casi di sequestro di cittadini giapponesi negli anni 70 e 80 usati per formare spie. In cambio Tokyo allevierà le sanzioni, tra le quali le restrizioni ai viaggi e all'invio di denaro verso la Corea del Nord. Il risultato dei negoziati, ha detto il primo ministro giapponese Shinzo Abe, è stata l'istituzione senza precedenti di un organismo nordcoreano per le indagini sui cittadini giapponesi, inclusi i casi di rapimento. Per questo intendo abolire parte delle sanzioni e siamo pronti a fare di tutto per una soluzione completa. Nel 2002 la Corea del Nord ammise di aver rapito 13 cittadini giapponesi. I cinque ancora in vita tornarono nel paese d'origine. Altri giapponesi sarebbero ancora all'estero e la lista con una decina di nomi sarebbe stata consegnata a Tokyo. Il Giappone ha voluto precisare che l'abolizione parziale delle sanzioni non è in contrasto con la posizione comune con Stati Uniti e Corea del Sud sul programma nucleare nordcoreano.